In Veneto calano i casi positivi rispetto alla scorsa settimana, ma a Padova la situazione purtroppo è in controtendenza con un aumento di 91 casi. Attualmente in provincia ci sono 2.105 persone che risultano positive al Covid, un dato che fotografa una situazione simile a quella registrata lo scorso ottobre, quando si registravano in media 63 casi ogni 100.000 abitanti. L'andamento della curva dei contagi però a livello regionale sta andando verso una stazionarietà. In questa settimana su 6.143 tamponi eseguiti in azienda ospedaliera, 166 sono risultati positivi. Le fasce di popolazioni più colpite sono quella tra i 45 e i 65 anni e tra i 15 e i 29 anni. La variante Delta è ormai l'unica presente nel nostro territorio. In questa settimana sono stati 162 gli accessi in pronto soccorso con sintomi simili Covid, per lo più bambini. Fortunatamente solo 4 sono risultati positivi e per 2 di loro è scattato il ricovero. Quartordici invece i nuovi ricoverati nei reparti. Ad oggi ci sono 19 persone affette da Covid ricoverate nel reparto di malattie infettive e 2 nel reparto di ostetricia. Due donne in gravidanza non vaccinate, un ricovero di un lattante in pediatria e 7 persone in terapia intensiva. 6 di queste non sono vaccinate, la più giovane ha 46 anni, mentre c'è anche un anziano vaccinato ma con gravi patologie pregresse. Il direttore generale Giuseppe Dalben ha rinnovato l'appello alla cura con gli anticorpi monoclonali che possono essere somministrati nei primi giorni in cui si registrano i sintomi del Covid. Sul fronte delle sospensioni dei sanitari Novax sono al momento 8 i dipendenti dell'azienda ospedaliera sospesi dal lavoro, due operatori sociosanitari e 6 infermieri. Si sta invece risolvendo positivamente verso la vaccinazione il caso di una dottoressa che fino a questo momento non aveva voluto immunizzarsi.